Cervia saluta l'estate con una serata organizzata da Federalberghi Ascom Cervia dedicata al mondo della ricettività, la prima edizione del party degli albergatori e del turismo. All'interno del Cursal, recentemente ristrutturato e riportato in vita, Arrigo Sacchi, Maurizio Ferrini e Piero Focaccia sono stati gli ospiti d'onore per questa prima edizione che unisce il mondo degli albergatori e del turismo cervese. Primo party degli albergatori, l'occasione per salutare la stagione estiva? Sì, assolutamente vogliamo iniziare la stagione con tanto entusiasmo perché l'inizio della stagione è sempre ricca di entusiasmo e quest'anno l'abbiamo voluto dimostrare anche con una festa, una festa degli albergatori ma l'abbiamo allargata anche al turismo, a tutti quelli che dedicano la vita per il turismo. Quali sono le novità con cui Cervia si presenta? Quest'anno abbiamo diverse novità, abbiamo gli eventi, abbiamo la riconferma di Ironman, abbiamo delle manifestazioni sulla yoga, abbiamo altre manifestazioni che abbiamo messo in campo, con le biciclette, le maratone, però soprattutto è l'entusiasmo degli albergatori che è la forza che porta avanti tutto quanto. Grazie a tutti.